Come sempre, come dal primo giorno, siamo qui a dare supporto alla famiglia, ai genitori di Giulio Regeni per continuare a chiedere verità e giustizia. La sentenza della Corte Costituzionale è stato un passaggio importantissimo. Abbiamo sempre detto che quel processo si deve fare, quel processo finalmente si farà. E noi continueremo a chiedere accanto a loro verità e giustizia per Giulio Regeni perché, come oggi hanno spiegato, è importante non soltanto per Giulio ma per tutte le persone che in Egitto subiscono torture e sparizioni forzate. Quindi è anche per questo un processo importantissimo che noi continueremo a seguire e continueremo a sostenerli. Grazie. Che deve fare ogni sforzo per ottenere gli indirizzi e la comparizione di questi quattro imputati. Non è possibile che l'Egitto continui a coprirli. Grazie.